Incinta a 13 anni, di famiglia Sinti, venne affidata ai servizi sociali del comune di Cittadella che ora dovrà pagare le fatture della comunità protetta che la ospitò. Così ha stabilito il tribunale di Padova ma la giunta guidata da Luca Piero Bon si rifiuta di farlo e ricorrerà in appello anche se sarà il consiglio comunale a decidere. I fatti risalgono alla fine del 2019 quando la ragazzina, nata e cresciuta in una famiglia con residenza a Malo ma che si spostava in camper tra Tezze e Cittadella, venne ricoverata all'ospedale cittadellese all'ottavo mese di gravidanza. Subito, vista l'età, i servizi sociali decisero di trasferirla in una struttura protetta gestita da una cooperativa di Ferrara che dalla fine del 2019 ha emesso regolari fatture a carico di Palazzo Mantegna. Il comune però si è sempre rifiutato di pagarle e intende continuare a non farlo dato che la giovanissima mamma resterà nella struttura fino ai 18 anni e proviene da una famiglia senza fissa dimora. Il tribunale ha sentenziato il contrario, la vicenda è destinata a durare a lungo.